Inter-Napoli, ecco chi l'arbitro ha designato. Nomina ad Internazionale, da ieri, con Big Match, dovrebbe essere Simone Sozza di Seregno, ormai sdoganato il fatto che sia a 30 km da Milano. Lo scorso anno ha fatto Inter-Roma e poi, fosse per Rocchi, farebbe fare Roma e Lazio i Romani, a dirigere Inter-Napoli. Big Match della sedicesima giornata, quella della ripresa della Adolfo al Mondiale. Due precedenti con l'Inter, due vittorie. Quattro con il Napoli, due vittorie e due pari. Oggi e domani gli arbitri di Serie A si raduneranno all'acqua accetosa in vista della ripresa del campionato, Gianluca Rocchi ha già scelto gli arbitri per il turno. Li comunicherà solo oggi, al termine dei test, dovrebbe essere il classico yo-yo, che verranno effettuati nel primo pomeriggio. Gli arbitri arriveranno all'acqua accetosa entro le 12, pranzeranno, effettueranno i test fisici. Poi gli aspettano due ore e mezza di aula, con la riunione tecnica divisa in due parti. Domani mattina, dopo le operazioni di peso, nuova riunione tecnica, con un focus sul South. Il fuorigioco semiautomatico che in Serie A entrerà a regime dal 27 gennaio, per la prima giornata di ritorno. I direttori di gara già lo stanno sperimentando da tempo a Lissone, sede dell'Ibici Center della Lega Calcio. Dove c'è la centrale unica del VAR Tricolore, centro all'avanguardia. Virgola.